Sta meglio ed è stata dimessa la guardia giurata, aggredita e derubata venerdì mattina alle prime luci dell'alba a Palazzo del Pero. Il 36enne, originario di Roma ma residente ad Arezzo, era stato portato in codice giallo all'ospedale San Donato. Dopo le prime indicazioni fornite dall'uomo, gli investigatori adesso potranno raccogliere altri dettagli dalla sua testimonianza. Vanno infatti avanti senza sosta le indagini degli investigatori, sia in Toscana che in Umbria, per mettersi sulle tracce dei rapinatori. L'assalto armato al portavalori sembra essere stato studiato nei minimi dettagli. I malviventi, almeno tre, sono entrati in azione attorno alle 6.30 sul luogo dell'imboscata nessuna telecamera. Poco prima dell'abitato di Palazzo del Pero, i malviventi avrebbero sbarrato la strada con una transenna, ancora non ritrovata dai militari, per costringere l'autista del furgone a passare dalla Via Vecchia. Poi il botto, probabilmente una gomma forata, che ha costretto il vigilante a rallentare. A questo punto l'assalto, da un ducato bianco, sono scesi due banditi incappucciati e con una pistola in mano, che lo hanno minacciato e picchiato con calci e pugni, prendendo cellulare e chiavi del mezzo, prima di abbandonare l'uomo in mezzo alla strada. Il furgone, invece, è stato ritrovato, svuotato qualche chilometro più avanti sotto ad un ponte della Due Mari. I rapinatori sono scappati con le cassette metalliche contenenti il denaro. Il valore dell'area furtiva potrebbe sfiorare il mezzo milione di euro in contanti destinati a banche ed uffici postali.